Del corso mi è piaciuto tutto, ma soprattutto la preparazione, perché essermi permessa di essere qua è stata già una magia e il corso è stata una continuazione di questa magia meravigliosa, perché comunque ho imparato a lasciare andare, ho imparato a vivere, ho imparato a vivere e quindi a vivere, a morire, a trasformarmi, per cui una magia, una magia meravigliosa. Io veramente consiglierei a tutti questa possibilità, permettersi di avere questa possibilità, perché veramente ti cambia la vita, ti cambia la vita, non è più, davvero non è più la stessa cosa, andare a casa la vita diventa tutta un'altra cosa, veramente meravigliosa. Mi porto a casa una cosa impensabile, una magia meravigliosa, una valigia piena di tutto quello che c'è bisogno per vivere. Ho sbloccato di tutto, non so neanche io che cosa, me ne renderò conto sicuramente tornando a casa, ricominciando a vivere, cominciando a vivere veramente. Però direi che non mi sento più la stessa, veramente. Ovviamente un grazie immenso a Patrizia per questa possibilità, spero veramente di poterne fare tanti, tanti, tanti altri, di diventare proprio una specialista della Divine Connection.